Un nuovo incidente purtroppo da segnalare nei danni qui nei confronti di un autobus dell'Atac in piano centro a Roma per la previsione in viare delle milizie dove un albero è caduto alle ore 3.30 del mattino sopra ad un autobus dell'Atac, ripeto. L'autista è stato portato in ospedale con l'ambulanza, l'ha fatto sapere il responsabile centro studio del movimento animalista. Sono stati ovviamente, come dire, sono mobilitati subito di forza dell'ordine per mettere in sigla il salario, togliendo ovviamente l'albero dalla strada e per far sì che non ci siano problemi di sorta anche per quanto riguarda la circolazione. Roma è una bella città ma purtroppo uno dei problemi che ci sarebbe a Roma sarebbe rappresentato anche dagli alberi che purtroppo a volte vengono a cadere. Speriamo che questo sia un vago ricordo, un mero ricordo che non si verifichino mai più situazioni come queste. Da narratore italiano è tutto, iscrivetevi se volete commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Roma continua ad essere bella ma purtroppo alberi come questi che cadono ovviamente non fanno mai piacere da vedere e da constatare. Detto ciò, un saluto e al prossimo video da narratore italiano.